Il tema del lavoro, allora vediamo se ci sono già Danilo Torilelli, Vito Crimi e Claudio Cominardi, così robotizzazione, digitalizzazione, avvento dell'economia, dei beni materiali, insomma saranno loro che ci racconteranno lo scenario prossimo 21 secondo i 5 Stelle. Buonasera a tutti, parliamo di lavoro, il lavoro interessa a tutti noi, chi un lavoro ce l'ha e teme di perderlo, chi invece lo sta cercando e chi magari è nel mondo del lavoro da 40 anni e non riesce a uscirne per colpa di una riforma del lavoro infame e delle pensioni. Allora, qual è lo stato delle cose oggi in Italia? L'Italia ha una disoccupazione reale del 30%, abbiamo il dato peggiore d'Europa, siamo riusciti a fare peggio addirittura rispetto a Spagna e Grecia, se parliamo di precarietà abbiamo un dato ancora peggiore perché nell'ultimo anno la maggior parte dei contratti, per la precisione i tre quarti, sono a termine, quindi è aumentata anche la precarietà, pensiamo invece ai dati sull'occupazione, non ci crederete, siamo fermi dal 2008, quasi dieci anni e nonostante le riforme del Jobs Act ci dicevano che la politica degli incentivi, il Jobs Act avrebbe creato occupazione, posti di lavoro e invece ha creato solo precarietà e nel contempo ci sono spesi 20 miliardi di euro, la politica degli incentivi non funziona, servono invece investimenti produttivi intelligenti e cos'è accaduto nell'ultimo anno? Gli investimenti produttivi sono accalati del 16%, 11 miliardi di euro in meno e si può creare occupazione sana e intelligente, come lo si fa? Basterebbe investire nei settori strategici. Allora, questo paese investe ancora nelle energie fossili, un miliardo di euro investito nelle energie fossili, nell'estrazione del petrolio, crea 700 posti di lavoro e dei danni sociali ed ambientali incredibili per un paese bello come il nostro, se invece investissimo la stessa cifra su riefficientamento, riequilificazione energetica degli edifici otterremmo 17 mila posti di lavoro, cioè vi rendete conto che abbiamo tutta una serie di possibilità, per esempio potremmo investire nel trasporto pubblico locale, nel trasporto ferroviario che è un qualcosa a livello regionale di vergognoso, potremmo investire nelle bonifiche, nel stesso idrogeologico, cioè il nostro paese ci chiede tutta una serie di emergenze, di cose che bisognerebbe fare e dovevamo farle anni fa e siamo indietro. E quello che vi voglio dire è che noi siamo abituati a una politica, all'accetto la qualunque, la politica del consenso pur che sia, che vuol dire bisogna dare la mancetta, pensate agli 80 euro di Renzi, altri 10 miliardi di euro buttati per prendere qualche voto in più, invece noi dobbiamo guardare alle future generazioni, quindi una politica di metodo e con metodo e per questa ragione con la collega Tiziana Ciprini abbiamo ideato, ci è venuto in mente e poi con tutta la commissione lavoro, lavoro 2025, che vuol dire utilizzare un metodo per poter prevedere il futuro, prevedere gli scenari e questa è una cosa stratosferica, incredibile, non ci aveva mai pensato nessuno prima, nessuna forza politica, perché è la prima ricerca previsionale e interdisciplinare che ha coinvolto un panel di esperti luminari, cioè tra i migliori assoluti, ognuno nel loro ruolo e questo cosa vuol dire? Vuol dire riuscire a capire tutto quello che riguarda, che attiene al mondo del lavoro, che non è solo la parola lavoro, sembra una parola anche di difficile interpretazione, ma nel lavoro ci sono un sacco di variabili, c'è la variabile demografica, c'è la variabile tecnologica, per esempio quanti di voi qua davanti, e io voglio fare un esperimento, mi capita spesso di farlo, ha un conto in banca online, alzate la mano, quanti di voi? È incredibile vero? Vuol dire che quelli sono tutti occupati in meno e quindi bisogna intervenire immediatamente per capire come fare per ridurre quel tipo di disoccupazione, ma anche per intervenire con dei sistemi di sostegno al reddito e investire nell'innovazione, dobbiamo investire in innovazione, in ricerca, in università e questo Paese investe sempre di meno. Ecco, io credo che il Movimento 5 Stelle veramente, e qui concludo, ha dimostrato che con competenza, con lo studio, con la preparazione, con delle proposte concrete e alcune di queste, ve le ho annunciate stasera, ma ce ne sarebbero molte altre, ma non abbiamo il tempo per discuterne, può dare una risposta vera al Paese. E con questo vi ringrazio e vi abbraccio tutti, vi voglio bene. Grazie Claudio, hai parlato di creare lavoro e queste parole magiche sempre utilizzate dalla politica finora per cercare di accattivare, portare voti, ma senza poi portare risultati. Oltre al progetto e al futuro e alle cose di cui ci ha parlato Claudio c'è anche la realtà, quello che abbiamo fatto da forza di opposizione per creare lavoro. E vi parlo del microcredito. Oggi voi sapete tutto del microcredito, quindi non vi racconterò come funziona, perché eccetera, ma voglio raccontarvi con quanta fatica e determinazione siamo riusciti ad ottenere quel risultato. E poi vi diremo anche i numeri. È iniziato tutto con un emendamento che serviva ad aprire un fondo esistente, aprire alle donazioni dall'esterno. Una cosa banalissima, c'è un fondo dello Stato e noi chiedevamo che chiunque potesse versare dei soldi, dei quattrini dentro quel fondo, perché i primi noi volevamo versare dentro le nostre eccedenze dello stipendio, quello che dovrebbero tagliarsi tutti i parlamentari e che ancora oggi non fanno. Noi ce lo siamo tagliati, l'abbiamo versato in questo fondo. Sembrava una cosa facile, finito l'emendamento, approvato, abbiamo esultato, aspettavamo la cosa semplicissima. Anche lì si parlava di banche, un IBAN, un conto corrente, un numero in cui infilare questi soldi materialmente. Per poterlo ottenere siamo dovuti rimanere due notti e due giorni a presidiare sotto il Ministero delle Finanze, a chiedere dacci Liban al Ministro delle Finanze. Alla fine ce l'ha dato e abbiamo cominciato a versare soldi. E anche lì sembra che sia tutto finito, invece no. E abbiamo dovuto di nuovo faticare, faticare per ottenere i decreti attuativi. Abbiamo lavorato sul Ministero dello Sviluppo Economico, a fianco del Ministero dello Sviluppo Economico, per insistere con determinazione a ottenere il risultato. E finalmente, a un certo punto, il regolamento è stato varato. Anche lì sembra tutto fatto, sembra finito, pronti? No. Ancora una volta serviva un altro passo. E servivano le banche, servivano le banche, gli istituti di credito che credessero in questo progetto. E alla fine anche lì, forse la parte più difficile del lavoro, è stato facile però convincerle della bontà del progetto che avevamo messo in campo. E lì finalmente era fatta, è partito il sistema. Ma non potevamo abbandonare le imprese, i cittadini, alla burocrazia. Allora abbiamo fatto un altro passo, la ciliegina sulla torta, l'accordo con l'Ordine nazionale dei consulenti del lavoro per non lasciare soli i cittadini in quel momento e per mettere una consulenza gratuita nella fase iniziale. E così è stato. Oggi è una cosa semplice, si va online, se hai i requisiti, clicchi e puoi accedere a tutto il percorso del microcredito. La cosa più importante era appunto convincere anche gli istituti di credito a crederci a questo. E alla fine oggi è operativo e funziona. E più avanti vi diremo anche i numeri del microcredito che è stata un'occasione per creare lavoro. Il microcredito, il fondo per il microcredito, è stata oggi, la possiamo definire la più grande manovra di politica economica fatta negli ultimi anni. E non è stata fatta da un governo, è stata fatta dalle opposizioni, è stata fatta dal Movimento 5 Stelle. Immaginatevi, immaginatevi se eravamo al governo cosa potevamo fare in questi anni. Ecco, immaginate cosa potremmo fare in futuro. E il microcredito è una soluzione perché oggi qualunque cittadino che vuole fare impresa sa che il suo primo problema è avere credito. E quindi per avere credito non c'è altra soluzione che dare allo Stato la possibilità di fare da garante, da garanzia. Eccola la più grande manovra di politica economica fatta dal Movimento 5 Stelle e non dal governo. E ora i numeri. Grazie, grazie Vito. Grazie a tutti, è che emozioni. E quanto è bello essere con voi stasera. Io ho l'onore di continuare a parlare di quello che Claudio e Vito vi hanno già detto con tanti numeri, quelle slide che vedete sono importanti. Ma microcredito sembra una parola così, asettica, poco empatica. Ma il microcredito che cos'è? Vito vi ha detto una cosa, io l'ho fatta ed è straordinario. Il microcredito rappresenta un'idea di paese differente. Quando è stato approvato quell'emendamento di cui vi parlava Vito, se ne fregavano, se ne fregavano altamente di renderlo applicabile. Avevano fatto la legge ma non la volevano attuare perché era bella, perché era vantaggio di chi non poteva dare dei soldi, non era per le lobby, non era per le banche, era vantaggio del tessuto, della vera italianità, dei piccoli e medi imprenditori. I sottoscritti insieme a Claudio, insieme a Vito e a tanti altri, siamo andati nel, non so come chiamarlo, New Jersey, comunque su un marciapiede di un viale di fronte al Ministero del Mise. Lo ripeto Vito perché l'hai detto anche tu, ma è straordinario, siamo messi lì con una tenda e mentre passavano taxi di giorno, di pomeriggio e di notte, mentre passavano i taxi dicevano questi sono dei parlamentari della Repubblica, sono in mezzo alla strada. Dopo 24 ore che eravamo in mezzo alla strada, un dirigente del Mise è sceso e dopo due giorni si sono attivati. Sapete perché questo? Quando siamo entrati in Parlamento, ci dicevano che non era mai possibile fare quella determinata cosa. Si pagava da 20 anni un affitto a un certo palazzinaro di Roma, che si è pagato, non era neanche proprietario delle case, questo qua affittava la Camera degli uffici per i collaboratori dei parlamentari e si era ripagato con il mutuo, con le rate che la Camera e il Senato gli pagava. Noi siamo arrivati e gli abbiamo tolto, ci dicevano che non era possibile con un emendamento. Il microcredito è un'idea di paese diversa, di chi come sottoscritto e come tutti gli altri portavoce che poteva avere uno stipendio di 10.000 euro, ha detto ma che me ne faccio di tutti questi soldi, proviamo a darli a chi ne ha bisogno. Le abbiamo presi e le abbiamo messe lì dentro. E se adesso passa quella slide, quella slide numericamente è piccola, ma come concetto e come idea è un sogno, perché se noi abbiamo restituito 23 milioni che potevamo tranquillamente tenerci in tasca, avrebbero fatto comodo a tutti. Questi 23 milioni hanno prodotto 6.500 finanziamenti di 6.500 famiglie che oggi possono lavorare grazie a quei 22.100 euro di prestito che senza garanzie, perché gliel'abbiamo date noi queste garanzie, con quei soldi, la banca poteva prestare a loro. E quindi questa è un'idea di paese diversa. Il paese di oggi, lo sapete meglio di me, se parlate con un giovane laureato, ha già interiorizzato la scelta di andare a Londra, in Gran Bretagna, o negli Stati Uniti a New York a lavorare. Un'idea di paese come questa, è un'idea di paese che gli fa interiorizzare il fatto che si può sopravvivere, anzi, vivere bene in Italia, che si può investire il proprio futuro in questo paese. Per un semplice fatto, che c'è uno Stato amico, c'è uno Stato collaboratore, c'è uno Stato che quando tu cittadino gli bussi alla porta, questa volta te la apre e ti fa accomodare. Oggi lo Stato te la schianta in faccia questa porta. Portiamo avanti questo modello di paese, per creare domani un'Italia in cui non fuggono più i cervelli, il meglio dell'italianità, ma soprattutto dove non ci rubino più la speranza. Perché questa idea di paese, che ha il fondamento sull'altruismo e sull'aiuto reciproco, è un'idea di paese che si proietta nel futuro e ci si renderà veramente un'Italia 5 Stelle. Non perché è del Movimento 5 Stelle, ma perché è 5 Stelle nella qualità della vita e nel benessere dei cittadini. Grazie a tutti. Buona serata e godetevela. Grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.